Musica Mercoledì 10 aprile 2024, buonasera, benvenuti con l'informazione di Star News, cronaca in apertura. Un 24enne di Biancavilla è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri per esecuzione e pena. Dovrà scontare una contanna di oltre 4 anni di reclusione, ma sentiamo le motivazioni in questo servizio. I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno eseguito un ordine di carcerazione nel confronto di un 24enne responsabile di porto e detenzione di armi da guerra, rissa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti che hanno dato luogo al provvedimento risalgono al settembre del 2018, quando il giovane ha partecipato attivamente ad una rissa originata sia da Drano, in seguito ad un incidente automobilistico e proseguita poi a Biancavilla in Via dell'Uva, proprio nei pressi della sua abitazione. La lite in sort fra un altro giovane residente in Via dell'Uva e un ragazzo adranita, aveva coinvolto un rilevante numero di partecipanti, perché in seguito al sinistro stradale il Biancavillese era scappato ed era stato inseguito dalla controparte adranita, spalleggiata da un folto numero di sostenitori, fin sotto casa. Qui il fuggitivo aveva chiesto aiuto ai suoi e la questione era diventata una vera e propria rissa, culminata con l'esplosione di colpi di fucile che avevano ferito uno dei partecipanti. Le serrate indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò per individuare partecipanti all'evento criminoso avevano portato in brevissimo tempo all'identificazione di cinque dei partecipanti allo scontro, nonché al rinvenimento in un terreno incolto adiacente alle palazzine di Via dell'Uva di Biancavilla di un fucile mitragliatore Kalashnikov AK-47 con un colpo in canna ed altri cinque nel caricatore. Le indagini svolte dai militari dell'arma e gli accertamenti sul mitragliatore, subito analizzato dalla sezione balistica del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, avevano stabilito che i colpi esplosi durante la zuffa di Via dell'Uva erano stati sparati proprio da quel fucile e che poi il 24enne al termine di quei concitati momenti lo aveva nascosto in un terreno incolto a tigua alla sua abitazione. Per tale motivo è stato condannato alla pena residua di 4 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione che dovrà scontare presso il carcere catanese di Piazza Lanza dove è stato condotto dai carabinieri della stazione di Biancavilla. Presentata in Consiglio Comunale ad Adrano dal sindaco Fabio Mancusso la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma riguardante il 2023. Il 2023 anno di spartiacque fra la fase di programmazione e quella di realizzazione così il sindaco di Adrano Fabio Mancusso ha introdotto la sua relazione annuale al Consiglio Comunale in merito a quanto programmato e realizzato nel corso del 2023. E sotto gli occhi di tutti Comadrano si è trasformata a partire dal mese di settembre in un cantiere a cielo aperto, si legge in una nota inviata dal Comune. Si tratta di opere pubbliche che delineeranno un nuovo volto della città dal punto di vista urbanistico, ambientale e per il suo complessivo decoro urbano. Tra i principali successi dello scorso anno e ritengo di non esagerare perché rispettare il crono programma imposto dal PNRR non era certamente facile ed agevole, ha precisato Mancusso, desidero menzionare fra gli altri l'apertura dei cantieri per la riqualificazione del centro storico e della rigenerazione urbana con un piano di investimento di circa 80 milioni di euro. Mancusso ha elencato i numerosi progetti avviati, fra cui la riqualificazione del centro storico e la realizzazione di opere pubbliche che interessano tutta la città, volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e stimolare la crescita economica locale. Ha inoltre sottolineato il sostegno alla sostenibilità ambientale, all'efficientamento energetico, con la riduzione dei consumi di energia primaria e la promozione del riciclaggio. La relazione ha dedicato ampio spazio nel settore sociale. Il comune di Adrano, capofila del distretto socio-sanitario di 12, nell'ambito degli interventi contro la povertà e la cura dell'infanzia ed anziani, che ha assicurato una capillare assistenza alle persone vulnerabili ed un forte impegno al contrasto alla violenza sulle donne. Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pur nella consapevolezza che non occorre abbassare la guardia in merito al problema dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di una minoranza di utenti, che si sta contrastando con attività di vigilanza ed il potenziamento di videotrappole, sono stati conseguiti significativi risultati con una percentuale del 71% di raccolta differenziata, con un incremento di livelli di tre punti percentuali. Il sindaco ha concluso la sua esposizione ringraziando la squadra amministrativa, il segretario generale del comune, i funzionari e il consiglio comunale e soprattutto il mondo dell'associazionismo e del volontariato presente e proficuamente addetto e impegnato ad Adrano. E ha ricordato di avere il privilegio di essere sindaco di una città in cui il contributo sociale disinteressato di tale associazionismo rende Adrano più solidale e attenta ai bisogni. Il Partito Democratico di Biancavilla presenta una mozione sulla riattivazione delle prestazioni sanitarie gratuite che sarebbero attualmente sospese del focal point presente all'interno dell'ospedale. Il sindaco Antonio Bonanno replica la riattivazione del focal point è uno dei punti sui quali abbiamo chiesto al manager dell'ASP di avere una risposta in tempi brevi al servizio. Riattivare le prestazioni sanitarie gratuite che sarebbero attualmente sospese del focal point presente all'interno dell'ospedale Maria Santissima Adolorata di Biancavilla a chiederlo è il Partito Democratico attraverso la consigliera comunale Melissa Pappalardo che ha presentato una mozione indirizzata al primo cittadino Antonio Bonanno. Nella mozione si evidenza che nel maggio 2019 presso il presidio ospedaliero biancavillese è stato inaugurato il focal point con lo scopo di devolvere ai cittadini di Biancavilla prestazioni sanitarie di screening gratuite al fine di individuare precocemente eventuali segnali di insorgenza e di tumore alla pleura provocati dalla flore edenite. L'inaliazione delle sue polveri sottili provoca i mesoteliomi maligni neoplasie che colpiscono i tessuti che rivestono gli organi interni. Nello scorso mese di marzo, dicono quelli del PD biancavillese, un'associazione del convenzorio ha avviato per la nostra città una lodevole iniziativa con il fine di divulgare diversi aspetti sul mesotelioma pleurico. Nello stesso evento, il sindaco Antonio Bonanno invitava i cittadini a regarsi al focal point per poter beneficiare delle indagini di screening gratuite. Se il primo cittadino avesse avuto l'accortezza, dicono ancora quelli del PD, su una faccenda così delicata e importante per la nostra comunità di interloquire con i medici dell'unità operativa complessa e della medicina interna del nostro nuovo socomio, ma soprattutto con i tanti cittadini che non stanno potendo usufruire delle indagini sanitarie promesse, avrebbe saputo che i servizi del focal point risultano sospesi da circa giugno dell'anno scorso. Il PD attraverso la mozione in sostanza intende impegnare il sindaco Bonanno a interloquire con l'ASP di Catania e il direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna di Biancavilla sulle attività del focal point e successivamente, in caso di fondatezza della sospensione dell'attività di screening, di interloquire con l'assessore regionale competente per riportare attenzione sul tema della soveglianza epidemiologica delle patologie fluoroadenite collegate e per la riattivazione dei suddetti centri. Quello che poteva essere un ottimo mezzo per poter fare diagnosi in stadi iniziali su una neoplasia che ha poche chance terapeutiche, rischia di vanificarsi nel silenzio dell'istituzione, chiudono così quelle del PD di Biancavilla. E sulla vicenda replica immediata del sindaco Antonio Bonanno. La riattivazione del focal point presso l'ospedale di Biancavilla è una delle richieste che abbiamo avanzato nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 25 marzo che l'amministrazione ha avuto con il manager dell'ASP Giuseppe Laganga. Nella mozione consigliare, dice Antonio Bonanno, la segreteria del PD di Biancavilla non dice il vero quando parla di silenzio dell'istituzione. Lo prova il documento inviato all'ASP a disposizione del Consiglio Comunale che riassume le criticità emesse nel corso dell'articolata discussione firmato da me assieme al Presidente del Consiglio Comunale Luigi D'Aso e alla Presidente della Commissione Sanita Martina Paternò. Non abbiamo certo atteso la mozione del PD, continua il primo cittadino biancavillese, per sollevare una questione importante come la riepettura del focal point voluto dalla mia amministrazione e inaugurato proprio durante la mia sindacatura. Questo il PD però non lo dice. Non è vero quindi come si legge nella mozione che il sindaco non fosse a conoscenza della sua chiusura. La sua riattivazione invece è uno dei punti sui quali abbiamo chiesto al manager dell'ASP di avere una risposta. Ha concluso così il primo cittadino di Biancavilla, Antonio Bonanno. Da lunedì 15 aprile sarà nuovamente operativo il numero verde dell'ASP per prenotare le visite mediche specialistiche. A comunicarlo è la stessa ASP. Vediamo. L'ASP di Catania ha riorganizzato l'attività del Centro Unico di Prenotazione. Infatti da lunedì 15 aprile il numero verde 800 954 414 per la prenotazione di visite ed esami specialistiche presso gli ambulatori dell'azienda sanitaria catanese sarà operativo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 19. La rimodulazione degli orari di apertura pubblico del GUP rientra nel piano di interventi disposti dalla direzione strategica dell'ASP di Catania guidata dal commissario straordinario Giuseppe Laganga Senzio con l'obiettivo di migliorare la funzionalità del servizio e di garantire quindi l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni sanitarie erogate dall'azienda sanitaria provinciale. Nel corso degli ultimi due mesi l'attività del GUP è stata sottoposta ad un monitoraggio quotidiano. Sono state assegnate nuove risorse umane con incremento di professionalità interna e con il reclutamento di ulteriori 10 unità. E inoltre in corso la riorganizzazione complessiva dell'attività di front e back office in modo da migliorare e ottimizzare il lavoro degli operatori accompagnare gli utenti nella fruizione del servizio ridurre quindi i tempi medi di risposta e semplificare alcune procedure interne. Con questo servizio è tutto per questa edizione. Grazie a voi tutti per averci preferito. Una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.